Ciao, sono Michele Sirio e oggi ti spiegherò i 5 motivi per cui girare video professionali per la tua azienda. Numero 1. Comunicare più velocemente. I video sono molto diretti e coinvolgono i sensi principali, la vista e l'udito. Numero 2. Risparmiare denaro. Sì, hai capito bene, risparmiare. Numero 3. Meno tempo e meno tentativi per comunicare portano a un risparmio reale sui costi di comunicazione. I video inoltre, se progettati in modo professionale, sono un investimento e portano valore e guadagno alla tua azienda. Numero 3. Aumenta il valore percepito per il tuo brand. Numero 4. Prenditi un vantaggio sui tuoi competitor. Tanti provano a fare video self-made, ce ne trovano anche di ben fatti, ma non ti puoi appoggiare allo speriamo che esca bene. No. Già dalle prime scene realizzate in modo professionale, ti accorgerai di quale valore stai danno a te stesso e al tuo lavoro. Numero 5. I video fatti con controc***o sono letteralmente una figata. Aggiungi una marcia in più alla tua comunicazione e rendi il tuo brand più dinamico e coinvolgente. Non hai mai fatto produrre un video? Questo ti spaventa e pensi che ti costerà un rene? Non ti preoccupare, non è così. Insieme ad un professionista creerete una soluzione migliore per te e per la tua azienda. Spesso social media manager e marketing manager mi chiedono che se io avessi bisogno di un video in verticale, di uno quadrato e di uno in orizzontale, nessun problema. I video professionali si possono progettare per coprire ogni singolo formato richiesto per i vostri canali di comunicazione. Preparati, fai volare in alto la tua immaginazione, non spercare soldi in inutili tentativi. Fatti produrre video professionali. Fai volare in alto la tua immaginazione, non spercare soldi in alto la tua immaginazione, non spercare soldi in alto la tua immaginazione.